E a questo punto rimane il problema di chi deve dire due parole su questo libro, che appunto è il frutto di quella serata di cui ho parlato prima. E allora abbiamo chiesto a Tito Boeri la cortesia di venire a dirci due parole. Grazie. Credo che è davvero ancora molto forte e vivo in tutti noi il ricordo di quella sera, un anno fa. Una sera che ognuno di noi ha letto a suo modo, chiaramente, essendo profondamente emozionato. Io mi ricordo che la cosa che mi aveva più colpito era il fatto che si richiamavano degli episodi drammatici, violenti, delle esperienze difficilissime da persone che le avevano vissute in modo così forte e intenso. E al tempo stesso però c'era qualcosa di molto unificante dietro a queste diverse letture di una fase storica molto difficile che aveva diviso molti di noi e molte anche di quelle persone lì coinvolte. E questo aspetto unificante era nella Costituzione, negli articoli della Costituzione, in cui tutti in qualche modo ci si ritrovava. Quella serata è stata davvero una serata straordinaria. Mi ricordo ancora che uscendo da questa sala e sentendo proprio l'emozione degli studenti che erano presenti quella sera e capendo che era stata fatta una cosa molto importante, perché era stato un contributo a ricostruire una memoria storica che in qualche modo si era persa per molti di loro. Mi vedevo proprio intensamente presenti che riscutevano di quella serata proprio alla luce di questa evocazione, del fatto che si riportava e si tornava su eventi così importanti per la storia del nostro paese, dando una lettura però anche in positivo. Mi ricordo che l'unico cruccio che mi era, appunto, uscendo da quella sera era accidente, avrei tanto voluto che i miei figli fossero qui con noi questa sera. E in effetti da allora la Fondazione Franceschi ha fatto in modo da rendere questa serata qualcosa che rimarrà per sempre, che lascerà delle tracce profonde. Da subito, credo, ci avevano già pensato Lidia e Mario la sera stessa, e Cristina, il video della serata è stato messo sul sito della Fondazione, e poi grazie all'iniziativa, all'azione, all'entusiasmo di Alessandro Dalai, che appunto indegnamente noi qui stiamo sostituendo questa sera e che auguriamo una prontissima guarigione, è stato trasformato in questo libro, che penso sia uno strumento davvero molto efficace per ricordare a tutti noi quella serata, e a quelli che non erano presenti quella sera, invece, in qualche modo, capirne lo spirito. Diceva prima Danilo che è cambiato molto da allora, insomma, si respira un clima diverso. Forse la ragione principale per cui oggi si respira un clima diverso è che forse il protagonista di questa fase della nostra storia è la persona, forse più di tutti, che è garante supremo della Costituzione, quindi quella sera si difendeva la Costituzione e oggi di fatto abbiamo un governo in Italia che è seguito in tutti i suoi passi dal garante di questa Costituzione, quindi questo già di per sé rende il clima molto diverso. Allora ci sentivamo di dover difendere qualcosa che era sotto un attacco profondo molto forte, adesso probabilmente ci sentiamo molto più rassicurati, anche se chiaramente i contenuti e questi aspetti sono davvero importanti ricordarli e tenerli costantemente in vita, però non c'è più quell'attacco frontale forse che c'era un anno fa. Ma forse c'è un'altra ragione per cui oggi ci sentiamo in una situazione diversa, cioè che quel governo in quel momento aveva seguito una strategia che era molto di attacco frontale alla ricerca, vi ricordate gli interventi, i tagli alla spesa pubblica che erano stati fatti erano quasi interamente incentrati sulla scuola, sull'università, c'era proprio un atteggiamento molto negativo nei confronti degli investimenti in capitale umano e oggi abbiamo invece un governo che in qualche modo cerca di capitalizzare sulla ricerca, sugli approfondimenti, sugli studi, anche con personalità che vengono dal mondo dell'università e dal mondo della ricerca. Allora questo dà anche ragione probabilmente alla scelta della fondazione, che è una scelta fatta da sempre e che è la cosa forse più bella, è la cosa che sopravviverà sempre della fondazione, cioè quella di proprio stimolare la ricerca, la ricerca applicata sui problemi concreti. Stasera abbiamo avuto due testimonianze di ricerche su temi di grande attualità e di grande importanza. Ecco, in questo probabilmente anche in questo si respira un clima nuovo. Quando si riescono a fare delle attività di ricerca che hanno una finalità pratica importante e su questo la fondazione ha dato un contributo davvero molto importante in tutti questi anni, ecco, l'esempio le borse, che adesso la fondazione vuole rendere in qualche modo, lo dico come membro del consiglio di amministrazione, qualcosa su cui continueremo a costruire altre attività, c'è un network proprio di ricercatori della fondazione, c'è stato un convegno a dicembre animato da questi ricercatori che hanno ricevuto in passato le borse di studio della fondazione, ecco, questa è la cosa che fa vivere anche l'attività della fondazione. Quindi io non voglio portare via altro tempo, ripeto, ho indegnamente sostituito chi doveva parlare di queste cose prima di me, ma penso che sia davvero molto, ci siano questi insieme di circostanze che in qualche modo rendono questa serata importante, ci fanno ricordare le emozioni che abbiamo vissuto un anno fa. Grazie.